Nel 68 ho cominciato a lavorare l'Aesu. Sono entrato nel 71. Nel 50. E lì ho fatto tutta la vita fino a quando sono andato in pensione. All'Aesu ho 16 anni nel maggio del 49. Mi si è presentato l'opportunità di fare il collaudatore. Tendevo a correre un pochettino, a scappare. Per conseguenza mi tenevano come un figlio, ecco se posso dirlo. Eravamo giovani e poi era un'atmosfera quasi familiare. Era quasi un passatempo. Era un po' il campanellismo del paese. A Brescia era nata un'industria vera e propria. Ormai il progresso si doveva trasformare più all'ingrosso. Allora gli operai, piano piano, un'ondava di qua, un'ondava... Io sono stato l'ultimo a uscire. Siamo tutte persone strettamente legate proprio dal lavoro e dal ricordo, dal passato. Il comitato nasce a Brescia nel 2000. La fabbrica è rimasta morfologicamente inalterata nel tempo. C'era un progetto del comune di abbattere tutto, ma proprio radere al suolo tutto. I vecchi stabilimenti erano cinque grandi hangar, diciamo. C'era la pista, c'era l'acquedotto e c'era il grande magazzino del prodotto finito. Oggi rimangono soltanto tre di quegli hangar frontali per una superficie di circa 3.000 metri quadrati, quando prima erano sicuramente molto superiori ai 10.000 metri quadrati. Eravamo un gruppo di appassionati. Ci siamo trovati insieme e abbiamo detto ma perché non facciamo l'ultimo raduno? Tanto poi demoliscono tutto qua. Con il primo raduno che abbiamo fatto nel 2000 c'è stata una massiccia presenza sia di appassionati locali per le moto e per l'Isetta, ma soprattutto di appassionati esteri che hanno portato qui le Gran Turismo. C'è gente che è arrivata dall'Olanda, dall'Inghilterra, da Parigi, dall'Ungheria. Sono macchine che fanno veramente 3-4 con un litro. Pensate cosa hanno speso di benzina. Si ebbe una petizione popolare per salvare una piccola porzione di questi capannoni che oggi è ancora visibile e che si spera possa ospitare il museo. Mi chiamo Roberto Ghezzi. Sono un restauratore prestato alla banca perché mi diverto più a sporcarmi le mani in garage. Lo spazio è di mio padre. Nel garage aveva l'officina. Lui ha sempre fatto il meccanico proprio come attività. C'era un coscritto di mio padre che aveva nel suo box questa fantomatica ISO, come la chiamava, la moto della mia gioventù, che diceva fosse stata costruita a Bresso. E ha tirato fuori dal box questa moto che era sotto dei teli completamente impolverati. Diceva che semplicemente mettendogli un po' di benzina la moto partiva. Peccato che la moto fosse ferma da anni, ma è partita. Un po' con sto borbottio. Anni dopo si è presentato in cortile, qui in garage da me, con la moto. E gli ho detto, come mai Celso? Mi fa, no, te la regalo perché è giusto che questa storia continui. Due mesi dopo è mancato. E la moto praticamente ha dato inizio a tutta la collezione ISO, la mia collezione. Rivolta aveva rilevato una fabbrica di refrigeratori che era a Bolzaneto, Genova. Il grifone potrebbe derivare dal fatto che il simbolo di Genova è il grifo. Producevano anche dei frigoriferi, frigoriferi ISO termos. Solo che Rivolta era avanti come idee. Terminato il secondo conflitto mondiale, lui ormai aveva individuato come lo scooter potesse essere il futuro per la mobilità degli italiani. Ha rilevato un particolare scooter, che era il Furetto. Lo slogan era Furetto, lo scooter perfetto. Non era proprio così. Abbandonato il progetto Furetto, si butta sul progetto ISO Scooter. Che è una moto carenata, ma è una moto carenata. Va a far concorrenza alle moto che erano in produzione italiana, che erano l'innocente con la Lambretta e la Vespa. E ne vende parecchie, facendogli fare competizioni sportive. Vince il Trofeo Piodelli nel 49, vince la Milano Taranto. E a fianco all'ISO Scooter può mettere la stessa concezione di moto scarenandola. Nasce l'ISO Moto. Sempre 125, la ruota è da 12, non da 9 o da 8 o da 10 come la Vespa. Nasce l'ISO Sport. Caratteristica principale dell'ISO Sport sono i tromboni, che i giapponesi hanno messo negli anni 70 nelle moto da competizione. L'ISO 200 nel 52 verrà definita come una delle più belle moto italiane. La ruota diventa da 15, cilindro stoppiato, ha il cardano, che avevano solo le moto tedesche. Marce con la frizione automatica. Peccato che il costo è elevatissimo, perché i prodotti dell'ISO sono sempre costosissimi. È una moto innanzitutto molto affidabile. Io da quando l'ho presa, e sono 16 anni, non ho nemmeno cambiato la candela. Le caratteristiche sono quelle di una moto degli anni 50, ha tre marce, avrà una velocità massima di 70-80 all'ora. Però quello che conta sicuramente non sono le prestazioni, ma sono anche le sensazioni di guidare un mezzo che ormai ha 60 anni. La guida del sidecar è particolarissima. Non nasce dall'ISO termo sul sidecar, perché l'ISO produceva solo la moto. Veniva assemblato all'esterno della ISO. È stato montato con criterio. Il problema è che se non c'è la persona all'interno del sidecar diventa una cosa inguidabile. È l'effetto pendolo in cui senti praticamente il peso del carrozzino che ti viene contro. Però è improponibile guidarlo al giorno d'oggi nelle strade italiane. L'ISO è molto diversa dai suoi concorrenti. La caratteristica principale è il fatto di avere un motore a cilindro sdoppiato. Un motore più complesso degli altri. Avendo due canne dei cilindri, i quali sono imbiellati uno sulla biela dell'altro. Questo particolare meccanismo gli consentiva di avere maggiore potenza. Quindi, pur costando di più la moto, di essere preferibile rispetto a una Vespa o una Lambretta. E questo è l'archivio dei documenti inerenti tutta la produzione ISO. Le fumicità a colori, il motore sezionato del furetto. Questa è proprio la storia dell'ISO. Dattato 9 agosto 1947. Il vero inizio della ISO però è qua. Perché questi sono i frigoriferi, dove veniva riposti i panetti di ghiaccio e rifrigeravano per 3-4 giorni. Non ci sono registri che dettaglino la quantità di moto prodotte. Si parla di 80 moto al giorno. Infatti ci sono delle foto d'epoca in cui si vede l'interno dello stabilimento, che è grande, completamente ricoperte da ISO scooter e ISO moto che sono pronte ad andare. Gli anni però cominciano ad essere 54, 55, 56. La moto comincia ad entrare in crisi perché l'italiano vuole la macchina e la macchina ci sta in 4, piove, non prendi l'acqua. Infatti il progetto ISETTA nasce nel 53. Non per immodestia però la collezione è quasi completa. Con mio papà abbiamo sempre fatto il possibile per cercare di ogni modello la variante. L'unico problema è che adesso c'è la collezione ma non c'è più mio papà, quindi praticamente. Il problema grosso è questo. Vado avanti io con mio fratello a portare avanti la collezione. La ISO praticamente è caduta in un baratro. La domanda che ci fanno molti è quando sarà pronto il museo. Non lo sappiamo neanche noi, è evidente. Sembra sempre che si arrivi a una conclusione positiva della cosa, ma gli anni passano. E l'area, siamo nel 2016 ed è ancora una situazione che chiunque può giudicare. La ISO nasce come fabbrica di motociclette. Rivolta era avanti, quindi produce lisetta. Dice faccio una gran turismo, però io voglio una gran turismo dove mi siedo e guido col cappello. Poi dice voglio affiancargli anche una macchina veloce e ci fa la grifo. È una bella storia che era finita ma che sta ricominciando. E il collezionista gli sta dando il giusto valore che merita. E il collezionista gli sta dando il giusto valore. Grazie a tutti!